Bene, dopo aver visto le immagini vediamo anche quelli che sono i commenti, soprattutto da parte della stampa locale, anche se per la verità in questo caso trattandosi di trasferta si tratta di corrispondenti esterni, in qualche caso appunto corrispondenti locali per quanto riguarda in questo caso Renate, ma anche in questo caso i commenti sono unanimi nel definire appunto Lentella un'ottima squadra che ha dominato questa partita e che ha raccolto il giusto frutto del gioco espresso sul terreno di gioco. Iniziamo dal secolo XIX che titola Lentella addio al tabù, primo successo esterno dopo troppe delusioni e poi naturalmente si fa riferimento all'andamento della gara. Prina, il giorno del riscatto, così immorale va alle stelle, questa è la dichiarazione del mister, la fine partita il tecnico bianco celeste è raggiante, bene nonostante abbiamo dovuto cambiare squadra come abbiamo detto per le varie assenze che colpivano appunto Lentella in questa domenica. E poi nelle pagelle molte sufficienze con qualche eccellenza tipo quella di Ciarcià che ha preso un bel 7 e quella di Staiti oltre ad Amlili sono stati i tre giocatori che hanno sicuramente dato un'impronta superiore in questa gara. Dicevo un notto invece addirittura per Staiti che ha segnato il primo gol ed ha messo lo zampino in tutte le occasioni da rete importanti dell'Entella con i suoi assist, con i suoi calci piazzati battuti sempre magistralmente e con appunto la sua visione di gioco nell'occasione del gol fornita appunto l'assit per Ciarcià nel primo minuto di recupero. Ancora la Gazzetta del lunedì, prima vittoria esterna nella vinta di Staiti, Staiti sblocca il risultato, Ciarcià mette fine alla paura, Rosso un legno e un gol annullato. C'è stato anche questo come abbiamo visto, l'incrocio dei pali colpito da Rosso o meglio dopo l'intervento miracoloso del portiere sul colpo di testa di Rosso la palla è andata a carambolare sull'incrocio dei pali, il quattordicesimo legno per la cronaca, per la statistica colpito da Lentella in questa prima parte di stagione. E poi abbiamo visto appunto la rete annullata per fuorigioco, anche qui pareva abbastanza dubbia quantomeno questa segnalazione, comunque ciò che è importante che poi alla fine Lentella sia riuscita a vincere questo incontro. Ancora gli spogliatoi, Pina finalmente è arrivato in raccolto, questo commento del tecnico appunto colto dai microfoni della gazzetta del lunedì. Dunque come si vede appunto commenti unanimi a quella che è stata appunto una inequivocabile dimostrazione di superiorità da parte della squadra bianco celeste. Come dicevamo il prossimo avversario sarà il treviso, per Lentella buone notizie perché non ci sono problemi per quanto concerne gli squalificati, mentre potrebbe esserci ancora qualche problema per gli infortuni, in particolare Musso a preoccupare, potrebbe rientrare in gruppo ma comunque sicuramente non prima di domani, pertanto è da escludere un suo impegno assolutamente almeno dall'inizio, poi probabilmente ci potrebbe essere un suo impiego part time qualora la partita lo richiedesse in corso d'opera. Quindi staremo a vedere di sicuro quella che arriva a Chiavere domenica è una grande squadra, una squadra dei grandi trascorsi, del grande blasone, che però come abbiamo visto domenica non è neppure essa imbattibile avendo appunto subito questa sconfitta pur per opera di un cuneo che è una delle migliori formazioni di questo campionato. Pertanto un incontro da vedere, anche in questo caso naturalmente l'appoggio dei tifosi è richiesto oltre che gradito per una gara così importante che potrebbe avere effettivamente risvolti importantissimi anche sul prosieguo della stagione dell'Entella e come sempre vi invitiamo a sfruttare quello che è la fase di prevenita per la biglietteria a partire dall'Entella Point in Corso Colombo 37 aperto tutti i giorni dai 9 alle 12 e dai 14 alle 18 mentre per quanto riguarda invece la biglietteria allo stadio ricordiamo il sabato e la domenica mattina a partire dalle 10 prima della partita appunto la possibilità comunque di acquistare il biglietto in prevenita lo diciamo appunto per evitare le probabili code che ogni domenica naturalmente potrebbero verificarsi qualora ci sia poca prevenita nel corso della settimana quindi ancora una volta l'invito a munirsi anticipatamente del biglietto come dicevo una partita importante si spiera di avere un buon pubblico ma si spiera soprattutto in un'altra prestazione positiva da parte dell'Entella. Come sempre uno sguardo al settore giovanile prima di concludere iniziando dalla Berretti di Andrea Scotto che è andata a cogliere un'importantissima vittoria sul campo della Reggiana che era fino a poche settimane fa la seconda forza del campionato lo è tuttora però comunque l'Entella è riuscita in questa impresa di battere la formazione migliana sul proprio terreno e anche in questo caso con una formazione rimaneggiata. La formazione di Scotto ha dato diversi giocatori nel corso della settimana alla prima squadra proprio in virtù di quella assenza che abbiamo detto la stessa cosa ha pagato purtroppo lo stesso Dazio hanno pagato gli allievi di Manuel Montali che vedremo poi però ripeto al di là di questo la squadra di Scotto ha sfoderato una prestazione assolutamente convincente battendo la Reggiana sul proprio campo e conquistando altri punti importanti che la proiettano al quarto posto in questa classifica del campionato Berretti nel Girono IC. Dunque è un buon momento che ha riscattato la sconfitta maturata la settimana scorsa sull'esterna di Moleone contro il Giacomense poi diciamo comunque digerita meglio grazie alla vittoria nel recupero contro il Pisa e infine sabato con questa bella vittoria sulla Reggiana in una settimana molto intensa per la squadra di Scotto. Per quanto riguarda gli altri campionati come dicevamo gli allievi hanno sofferto anche essi di qualche giocatore che ha dovuto andare a rinforzare, a rinfoltire la rosa della prima squadra e pertanto Montali ha avuto una settimana un pochino tribolata sotto l'aspetto organizzativo di allenamenti. La squadra ne ha pagato le conseguenze domenica anche complice a una prova non all'altezza contro il Cugno che tra l'altro in vantaggio dopo soltanto un minuto di gioco era veramente una domenica nata male e quindi finita poi con un 3-0 che non lascia, ha detto, alcuna recriminazione. Una pagina da voltare in fretta, in questo caso la formazione di Montali la può voltare velocemente perché giovedì 8 dicembre alle 11.30 al comunale sarà chiamata a recuperare il match contro la Valenziana rinviato per il maltempo all'inizio di novembre, quindi l'occasione per riscattare immediatamente questo stop inatteso contro il Cuneo. Bene invece, molto bene i giovanissimi di Giampaolo Castorina, i giovanissimi nazionali che hanno battuto per 7 reti a 3 la Propatria, dopo un inizio equilibrato, un primo tempo terminato sul 3-2 per i giovani bianco celesti e poi nel secondo tempo c'è stata appunto la netta supremazia con questo 7-3 finale che non lascia assolutamente adito alcun tipo di recriminazione per quanto riguarda la formazione nata da Castorina. Per quanto concerne invece le altre formazioni, quelle regionali, c'è la bella vittoria degli allievi nel derby contro la Lavagnese, un pareggio importante per i giovanissimi 98 allenati da Marco Cella e poi una sconfitta invece per la squadra B, quella allenata da Andrea Chiavera e un'altra bella vittoria invece per i giovanissimi in fascia B di Davide Genovese. Poi naturalmente tutti i risultati anche dei campionati provinciali che vi invito a seguire su www.entella.it il sito ufficiale della società sul quale come sempre troverete anche i servizi fotografici e le immagini degli highlights della prima squadra. Direi che con questo abbiamo concluso, vi ricordo naturalmente l'appuntamento per domenica 14.30 al Comunale di Chiavari, Entella Treviso e la diciottesima giornata di questo torneo di seconda divisione Lega Pro come abbiamo detto un incontro di cartello, una formazione importante che scende al Comunale ma trova un Entella in assoluto momento positivo e pertanto gli auspici sono ovviamente i migliori per la formazione allenata da Luca Prina. È tutto per quest'oggi, vi rimando a martedì prossimo per l'appuntamento dedicato alla seconda divisione Lega Pro a risentirci naturalmente su Levante Sport TV.